La sfida fra Martini e Bitonto, due squadre in busca della tanto agognata tranquillità nel girone H di Serie D, termina con un solo amonico 1-1, ad emblema di una stagione che ha visto i due club avere quasi medesimo destino. Mister Valeriano Roseto vuole i suoi sempre più verdi e meno neri, nonostante l'altra cupezza di un cielo che la mandava giù da Otre. Così fra i pali, debutto dell'implume Civita, diga difensiva con rapio a Capitan Silletti e Gianfreda, stantuffi laterali Cassano e Carullo, Lucchese facetore di gioco con Muscatini all'Eccardore a sostegno, coppia tutta a Fosforo Muscoli, davanti Maffei Corrado. Il mago Massimo Pizzulli schiede i suoi col 4-3-3, si fida del fuoriclasse Figliolo in porta, reparto arretrato col dottor Aprile e l'impavido Perrini, Langone, Ubico e Possente, Conteio e Mediana, davanti Capitan Ancora e Larghi, Ievolella e Mancini. Prima occasione per i padroni di casa all'ottavo, bolide di Ancora dai 20 metri, plastico non meno che efficace il tuffo di Civita. Tre primi dopo, l'undici ci prova col Mancino, alto. Poco dopo il quarto d'ora, Gianfreda, scodella dalla tre quarti, piattone di Carullo, Olimpico, Figliola blocca. Minuto 39, vantaggio Biancazzurro sul rigore, conclusione di Ievolella da fuori, incerto Civita si fa sfuggire il cuoio, ma poi Balzafelino su Ancora, Muscatiello infine, Trebbia Tejo. Dal dischetto l'indemoniato puntero martinese, trafigge il portiere ospite, che pure aveva intuito. In pieno recupero, botta di Lucchesi da lontano, l'ex neroverde doma la sfera senza pateni. Il tempo da treggenda non impedisce ordine e battaglia nella ripresa. Omelette sfiorata al ventiquattresimo da Civita, che scivola sull'erba madida e rischia di regalare il pallone agli avversari, poi si disimpegna con eleganza, subendo persino un fallo. 26esimo, punizione velleitaria di Maffei. Poco prima della mezza, imbeccata di vaticinio per Sush, che in corna le ali di Civita pongono rimedio. A 180 secondi dal triplice fischio del Livornese Falleni, il meritato pari neroverde, lancio chirurgico di Silletti, spizza figliolia per il grande Loris Palazzo, che viene invitato ad esibirsi nella sua rinomata specialità, galoppata irrefrenabile e rasoterra esiziale. È festa così per i Leoncelli e gli splendidi eroici tifosi al seguito per il traguardo tagliato, ora finalmente pure con la benedizione dell'aritmetica.